Eeeh what's up a tutti ci ormai e benvenuti la giocherina in questo nuovissimo episodio su The Walking Dead Vi ricordo ragazzi il vostro sostenibile è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime e per voi soltanto questione di un secondo Per cui mi raccomando spolliciate Eccoci qua di ritorno signore e signori dopo che la volta scorsa purtroppo siamo stati sconvolti direi abbastanza da situazioni un pochettino pesanti Perché? Cos'è successo alla fine? Alla fine il gruppo di lì è rimasto ancora al motel per un po' di tempo in quanto ovviamente avevano trovato anche diversi viveri per poter andare avanti Nonostante comunque nel frattempo Kenny stesse continuando ad insistere per il fatto di dover andare via da lì Anche perché ormai erano anche ragazzi bersaglio dei banditi dopo che era andato tutto a scatafascio alla fattoria Il punto è che c'erano comunque ragazzi delle difficoltà fra i vari membri del gruppo Perché Lily che ovviamente continuava a stare a capo del gruppo per modo di dire Era diventata quasi paranoica da certi punti di vista Continuava ad insinuare che qualcuno del gruppo rubasse roba da mangiare e inoltre rubasse anche medicine Quindi ha chiesto a Lily comunque un attimino di investigare tra molte virgolette Fatto sta che lì dopo aver confessato praticamente a tutto il gruppo di aver ucciso un uomo Prima che succedesse tutto il macello Alla fine è riuscito a scoprire che in effetti era vero ragazzi C'era qualcuno nel gruppo che stava prendendo medicinali e roba da mangiare E li stava passando ai banditi di fuori in qualche modo Però non siamo riusciti a scoprire chi Fatto sta che alla fine è successo un macello ragazzi Perché i banditi comunque hanno assalito il motel E quindi nel disastro generale alla fine sono riusciti tutti quanti a fuggire dal motel stesso Ma poi purtroppo ragazzi si è creata una brutta situazione fra Lily e gli altri Perché continuava ad accusare Ben e Carly di essere in combutta con i banditi E alla fine ha ucciso Carly sparandole direttamente in testa Abbiamo quindi dovuto decidere di abbandonare Lily Potevamo decidere di portarla con noi Io ho scelto di lasciarla lì Per quanto comunque la scelta ragazzi sia stata difficile E ultima cosa scioccante Abbiamo scoperto che purtroppo Duck è stato morso Quindi io non so più cosa aspettarmi ragazzi veramente da questo gioco Come avevo temuto le cose vanno sempre più peggiorando E adesso ci siamo ritrovati di fronte a un treno che blocca la nostra strada L'ultima volta quindi ci eravamo lasciati qui ragazzi E questo è un bel problema adesso Un gran bel problema Che come lo sposti Che come lo sposti Che come lo sposti Che fai cosa succederà Ci si può aspettare veramente di tutto ragazzi in situazioni come questa Quindi temo veramente il momento in cui purtroppo Duck si trasformerà perché è inevitabile Non oso immaginare che diavolo potrà succedere ragazzi Allora guardiamo un attimino quindi questo treno merci Possiamo aprirla? Sì Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa Di utile Anche se il problema principale adesso è che siamo bloccati qui Non possiamo andare a piedi Ok Stiamo comunque attenti teniamo gli occhi aperti perché a quanto pare qualcuno qui ci vive Mappa Mappa di cosa? Mappa di dove il treno va Ah Ok Sto portando quindi a Savanna di regola Qui c'è una bottiglia d'acqua ragazzi Chissà se è vuota Ok C'è dell'acqua C'è dell'acqua perfetto Vediamo un po' di aprire quest'altra porta Questo ci porta all'altro vagone quindi Ovviamente sì Vediamo un po' Vano motore Suppongo tra l'altro che sto treno c'è Non funzioni Interruttore Vabbè mi pareva più che ovvio ragazzi Mi sarebbe sembrato strano il contrario insomma Come pretendere che qualcosa funzioni Suppongo che sia uguale anche di qua Ci sono però degli strumenti che magari possiamo Possiamo prendere ragazzi Prenderò questa chiave inglese Mi sembra un pochettino più Solida E qua non c'è altro Quindi Penso di poterne prendere solo una Perlomeno nel fienile era stato così ragazzi Apriamo anche quest'altro vano motore Che altro c'è qua di utile? Nulla eh Ovviamente no Che si può pretendere di trovare? Apriamo anche quest'altro così per scrupolo E vediamo Immaginavo non c'è niente anche qua Perfetto Allora entriamo nella cabina E' chiusa Oddio Ma è vivo? Oddio Sempre che sia ancora vivo Non è detto Lo colpirò con la chiave inglese ragazzi Anche se comunque faremo rumore ugualmente ma Magari non tanto come con una pistola ragazzi Ok era già morto È chiaro che ha sbattuto la testa contro il vetro ragazzi C'è un buco sul vetro che Mi faceva intendere Si è spaccato la testa Mamma santa Si è proprio spappolata Eh già Beh no Se si danneggia il cervello Beh se funziona Possiamo spostarlo It's just the brakes Ok I'll give you that This fucker works Seems like it I'll be damned How the hell do we get it moving? I don't know That's Mr. Amtrak over here No clue We found this in the boxcar back there Oddio ragazzi Mi fa scegliere se dirgli di Duck Kenny comunque sicuro non accetta sta cosa E Duck? Beh, non lo è ma Come avevo immaginato Ragazzi ovviamente Ah, di Duck Non ha detto fondamentalmente alcunché Vabbè comunque allora Guardiamoci un attimo intorno Ma quello cos'è? Non può essere utile? No, ok sono mappe Niente di utile La foto Poraccio Mamma mia ragazzi Storie di vite spezzate Proviamo a vedere sta console Niente Allora dobbiamo Qua sotto Pranzo è andato a male Che schifo Qua dietro Eh ma è stato strappato Se avessi una matita Magari Una roba del genere Parliamo con Kenny Vediamo se No Allora riguardo Il treno Ci serve qualcosa No Eh ok Ok La soluzione Già ce l'avevamo Io pensavo gli chiedesse Se si avesse insomma qualcosa Per fare un calco Di questo taccuino Ecco Proviamo ad uscire di qua ragazzi Vediamo un attimo Se da questa parte C'è qualcosa di utile La puta che te pario Madonna Santissima Madonna Santissima Ragazzi Cosa c'è là sotto Cracker Dopo che sono stati sotto le gambe di questo Sinceramente Guarda È bloccato Sì ma Chi ha il coraggio di fare qualsiasi cosa Con questo qua dentro Vabbè spariamogli ragazzi Che dobbiamo fare Troppo rumore Niente Non possiamo fare un cavolo Sapriamo la portiera Niente Ok Quindi Gli dobbiamo sganciare la cintura E farla arrivare PIN qui Ok Fantastica Oddio Piano Piano E piano Facciamo in fretta Presto 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 Ok Direi che le abbiamo spappolato abbastanza la testa Spostiamo No io vorrei spostare il cadavere prima di arrivare i Cracker Ma sono dettagli Ok Non c'è altro qui che ci può essere utile Sembrerebbe proprio di no Lasciamoci alle spalle Sto maledetto zombie mi ha fatto prendere un colpo Veramente un colpo Ferravacche Wow Ok Possiamo fare il giro di qua E potremmo risalire di nuovo di sopra Ma Dobbiamo chiedere a Clem Magari Clem c'ha qualche pastello Qualche gessetto Forse lei ha quello Che ci può servire ragazzi Vediamo un attimo Magari mi sbaglio Magari no Proviamo a parlare con lei E Clem Clem ragazzi mi ricorda sempre L'innocenza Che ormai in questo mondo Non c'è più Diamo l'acqua a caccia Ah mamma mia Allora È grata per il tuo aiuto Possiamo darle anche i cracker Abbiamo trovato Se il giro è in questo Grazie È molto pensato Non è fosso Sai Cosa? La maggior parte Sono veramente fosso Con quello che comino Non è fosso Non è fosso E questo tipo Non è il giro No Il più problema che ho avuto È farlo usare un forco Grazie Certo Oddio Ok Apprezza la nostra preoccupazione Possiamo tornare nel camper Clem ci ha detto di controllare qui Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa Che ci possa essere utile Ora di qua non c'è niente Vediamo di qua ragazzi Oh c'è una matita La vedo La matita La matita Giusto quello che ci serviva Fantastico Perfetto Possiamo uscire Andiamo Ok perfetto ragazzi Ritorniamo qua Nella cabina Principale E vediamo di scoprire Come far partire Sto benedetto affare Eccoci qua Ci sono Ci sono Dammi un attimo Oh Fantastico Allora C'è l'ordine in cui vanno Praticamente le varie leve Ok Allora Sei era giù giù E questo è giusto Poi era su La seconda anche E poi le altre tre Non me le ricordo Quindi vediamo un attimo Perfetto Quindi su Giù E su Ok Quindi la prima È a posto Ha semplicemente seguito le istruzioni Ken Allora poi Questo era sei Vediamo Cinque Sarebbe Orizzontale E verticale Quindi queste di qua Quindi orizzontale E verticale Perfetto Dopo Nove Prima verso sinistra E poi verso destra Così sembrerebbe Ragazzi Vediamo un po' Sette Otto Dov'è nove Bisognerebbe pensare anche a quello Ah è vero Era nel vano motore Ragazzi Era nel vano motore Sì 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 Noi dobbiamo riandare fuori Credo che fosse il primo vano motore Se non sbaglio E dovrebbe essere questo Vediamo Ok Nove Ecco qua Prima a sinistra Ok E poi a destra Ci siamo Questa affare fa rumore Vediamo Rientriamo in cabina Deve essere per forza questa E' quella dell'acceleratore Oh Dammit Of course We're still attached Can you go find out where we're stuck And get us unstuck Yeah Ok Me ne occupo io Tanto Devo sempre fare tutto io qui Quindi Mi chiedo se sia Il primo Ma non credo Non credo ragazzi Che sia il primo vagone Ecco qua ragazzi E' questo qua Deve essere questo Ok Hey Kenny We're loose Perfetto Non ho preso niente Eh ho preso una mappa dei treni That's fine You can have app Really? Yeah I got them all right up here I guess it's no worse for wear Name's Chuck Charles if you fancy Lee Ok Ok That's your crew outside Yeah And the guy up in the cab Him too I saw you walking through here And thought about scare the pants Eh What? I'm glad I couldn't force myself to do it You're still kind of freaking me out Train folk will do that I've already met everyone outside They all warm to me right quick In direct sunlight Ok Quindi si è già presentato a tutti In pratica You met Chuck Yeah I did It's so nice to meet someone normal for a change He gave us candy Ben too Ben benuto Welcome Thank you You met Kenny? Sure did Man shares my love of the road That's for certain I'm awful sorry Your son's not feeling good I appreciate your concern Well With a little TLC I'm sure he'll be fitter so fiddler in no time And I can offer y'all whatever I got Although it ain't much Thank you We'd like to do the same Why don't we hold off on Stay with us We'd like the company Ok Così Improvvisamente Chuck Si unisce al nostro gruppo Perfetto Meno male dai E' che oggigiorno ragazzi Vedete Eeeh La fiducia non è così facile da dare We don't got much left So just gather whatever you have Let's go Bennett Want a ride? Well it sounds like you're taking my home That's a yes then Haven't found anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar Duck's sick Get on the train Clementine He's getting sicker Let me look at him Ah Regà Quale genitore vorrebbe mai accettare il fatto che il figlio sta morendo? Fondamentalmente a maggior ragione che si trasformerà in una di quelle cose Cioè sinceramente mi fa male parlare con lui di Duck Cioè Non me la sento di dire non possiamo ignorare sta cosa Anche se in effetti Sarebbe vero Eeeh Possiamo andare avanti se vuoi Damn right I won't That's what we're doing I think Lee just wants to talk it through It's talk through Get on cat I'll be up front I don't want to hear any nonsense until we get where we're going Non lo accetterà ragazzi E io lo comprendo pure Siamo pronti a partire allora Quindi addio al camper e via al treno Adesso si Bisogna sperare ci sia abbastanza carburante per andare avanti per un bel po' So Sì 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 ... ... ... ... ce l'accaveremo che parla oddio ragazzi oddio non ci voleva pure sta cosa non ci voleva Kenny c'è raga già è chiaro come reagirà c'è Kenny caccia ha bisogno di te no sta negando la realtà calma parlando con il tuo amico che c'è non mi va manco di dargli addosso ragazzi però ste scelte c'è quanti figli stanno per morire no no che Kenny Kenny fermati fermati per favore fermo basta basta fermati fermati per favore per favore Sì, sì, sì. Ken, è... Credo che è il tempo. Il ragazzo ha stato scoperto, in caso che non hai capito quello. Tengo tanto tempo che hai bisogno. Non c'è tempo di prendere. Che faremo? Non possiamo permettere di diventare uno di queste cose. Ma cosa se... se non... Kenio... Io amo molto molto. Io amo il suo figlio più di lui. Io ho bisogno di ascoltare. Lo che stai dicendo... che non si può rendere... è vero. Ma... C'è... 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 E'... Vado a assicurarmi che stia bene... E che è successo,omo? Cat, Cat, gotcha! Cat, gotcha! Why, Cat, gotcha? Why, Cat, gotcha? Oh, fucking God! What the hell happened? What did you- Oh, fuck! Look! What do we do? Give me the gun, kid. I'll do it. I'll do it. You're getting better. Sì. 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 Perché hai detto quello che hai detto? Scusa... Troviamo una barca... Una bambina... Troviamo una bambina... Troviamo una bambina... È chiaro che non ce l'ha... Comunque ragazzi, poi ne parliamo... Dove sei diretto? C'è un sensato... Ho sparato al bambino... Allora ragazzi, è stata una cosa... Strassiante... Kenny non solo ha perso il figlio... Ma... Anche sua moglie... Kasha non ha resistito al dolore... Di perdere il figlio... Mamma mia ragazzi... Veramente strassiante tutto... Parliamo con lui... C'è qualche cartina... Non c'è niente... Qua c'è qualcosa... Ok, usciamo... Ehi Ben... Pure lui è distrutto... Come va? Non siamo rimasti... Non so se possiamo puntare su Kenny... Vabbè... Torniamo da Clem ragazzi... Il tizio... Cioè Chuck... Ha detto di... Questa... Vabbè... Questo è il sangue di... Di Duck... Purtroppo ragazzi... Ha detto di cercare nel suo zaino... Un paio di forbici... Per tagliarle i capelli... Non ha tutti i tortili eh... Da questo punto di vista ragazzi... Ammazzando so cross queste forbici... Va bene... Parliamo con lei... Ho ho fatto... Ha un po'... 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 Che brutta giornata... Che ne pensi di Chuck? Devo imparare a difenderti... Anche questo è giusto ragazzi... Che... 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 Si ona... Ci senti... vediamo come se la cava mira a destra, tiri la ferma mira più in alto ah, troppo mira a destra e più in basso di nuovo, non stringere i gomiti a sinistra e più in basso no, troppo mira, tiri la ferma e più in alto ok ti gomiti oh E' brutto dover insegnare queste cose, ragazzi. Però non si ha molta scelta. Dobbiamo tagliare i capelli. No. E' cat cat? Beh, si dovrebbe succedere. E se fosse una walker, no... Beh, deveci la scelta. Ma per scelta? Ne voglio cuplir abbastanza più corto, per che non si riesco a gredire. Ok. Taglia Quanto può essere difficile Certo che mi hai detto finalmente Mi anche Hai matato molte cose Non importa Uccidere è una cosa brutta Uccidere è brutta, non importa cosa Ma lo fai ora per proteggere te stesso E per proteggere me Non fa bene Ma devi Certo Lo faccio perché è necessario Walkers non sono persone Ok, credo che mi sono finito Potremmo tagliare queste pezze Con qualcosa Hai, ho alcune delle pezze Hai? Ah, sì Lily mi ha dato per dormire All set No No E' molto più difficile da prendere Ora i capelli al sicuro Perfetto Bottiglia di whisky Ma a Chuck piace bere Magari Gliela portiamo Comunque ci ha dato dei buoni consigli Ragazzi Per quanto allora Abbia detto secondo me Le cose in maniera sbagliata Clem A noi ha dato buoni consigli Mamma mia Kenny ragazzi Cioè Kenny Cioè ormai Sarà sempre distrutto Cioè c'è poco da fare No 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 Sto bene No Sto bene Facci piano amico Ok Ma dobbiamo far spostare Kenny Mi sembra di capire Magari Gli va di bere Non lo so Voleva sapere se volevi farti un goccio Perfetto possiamo prendere le mappe Fantastico E adesso possiamo tornare Ammazza Eh E' stata imbediata la cosa Un goccio nel vero senso della parola Cioè 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 Ben Fantastico ragazzi Carly Carly è stata uccisa ingiustamente E lui ce lo siamo portati appresso Davvero fantastico Incoraggiante Le ho lasciato lì lì Dove stavo Cioè 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 È successo Cioè E' il nostro E mi è sono più con noi siamo insieme a Ben che ha confessato di essere il traditore tra molte virgolette insieme a Chuck che l'abbiamo conosciuto così di straforo Kenny che comunque con la testa molto probabilmente ragazzi non ci starà più tanto Clem che ovviamente si illude ancora di poter abbracciare i suoi genitori io non volevo distruggerle le speranze ragazzi però è chiaro che purtroppo i suoi genitori avranno già fatto una brutta fine io non so cosa aspettare ogni volta è così ragazzi non sappiamo mai a cosa andiamo incontro anche perché poi ogni posto ragazzi c'è i suoi disastri quindi dopo lo strazio di oggi dopo la tragedia di oggi chiudo veramente col cuore triste perché è stato veramente devastante e niente ci prepariamo psicologicamente per la prossima volta come sempre aspetta i vostri pareri qua sotto in commento questo video termina qui grazie a tutti un bacione e abdoscia a tutti ragazzi da Giocherina ciao